È stato fatto tanto, non è stato fatto tutto, anzi siamo molto lontani da aver fatto tutto, però l'impegno dell'amministrazione, lo sapete benissimo, sia in termini di risorse economiche che in termini di risorse umane, non si fa tutto in un giorno, bisogna farsi da una parte come noi abbiamo fatto e andare a varsi verso una soluzione generalizzata. Comunque vi posso dire che siccome di degrado si parla e secondo me si sparla, spesso anche un po' a sproposito, nasce la prossima settimana nella nostra amministrazione comunale un gruppo di lavoro trasversale che conterrà manutenzione sociale, polizia municipale e ufficio strade proprio su questo discorso del degrado urbano, per vedere e dare una veste organica un po' a tutti i risvolti del degrado urbano.